Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Ziletto e oggi qui siamo su The Wolf Among Us, già ho fatto il tutorial su come scaricare questo gioco e ora iniziamo dalla Telltale Games, gli stessi che hanno fatto The Walking Dead e ho scoperto da poco, non lo sapevo anche Borderlands, è stato fatto dalla Telltale Games e in effetti ha la stessa grafica di questi giochi, ma non ce l'ho mai pensato e invece si è così, vi ho spiazzati vero? Lo so, lo so, un attimo che carica, eccolo qua, lo sto qua, figo che manco so come cazzo si chiama, si non ci ho mai giocato, ve l'ho fatto vedere solo nel tutorial, poi manco aperto, comunque, diciamo, gioca, avvia episodio 1. Vediamo cosa ci riserva a questo gioco, ho sentito che è una figata, poi, non so, ho letto un po' di recensioni e dicono che è veramente figo, figo, figo. Però si è all'altezza di The Walking Dead che, per quello che ho giocato fino adesso, è veramente figo. Aspettiamo un attimo che si carichi. Questa serie si è data a seconda delle scelte che prendi, la serie viene personalizzata dal modo in cui la giochi, come in The Walking Dead. Stesso preavviso. C'era una volta a New York City una comunità di personaggi delle favole che viene in un luogo conosciuto come favolambia. Le fiabbe erano arrivate nella Grande Mela secoli fa, dopo che furono esigliate nelle loro terrenatie. E la cellulose di incantesimi chiamate malie avevano protetto la loro comunità segreta dal mondo dei terreni. Lo sceriffo Luca Wolf, invece, li protegge l'uno dall'altro. Quindi questa è un po' la storia, ci sono queste malie. Bene, bene, bene. Eccolo qua è il tipo. Siamo noi, naturalmente, direi. The Wolf Among Us. Ok, basta. Però è leggermente diversa la grafica di questo, da The Walking Dead, a quanto vedo. Mi sembra più simile a... Eh, sì, sì, sì. È più simile a quella di... Sì, quella affare di... Sì, avete capito, no? Di Borderlands. È più simile, secondo me. Poi, magari mi sbaglio, però mi sembra un po' diversa. Quindi direi che lo sceriffo Luca Wolf siamo noi. Signor Ospo. No, 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 aspetta. Se lo avevo per scontato, ma... Ah, sono un ubriaco. No, aspetta. Con questo è il... Ah, devo scegliere io qua. Sì, infatti... Ah, sì, è insieme a validozione. Sì, ma che cazzo. Un rosto, ma cosa? Deve essere quello lì, il principe... Rosto, lì, come si chiama. Ah, sì, lui è Luca Wolf, quindi... Ero... Anche se... Dovresti prenderselo. Eh, sì, ok. Non ho capito a cosa servono le manie, eh, ragazzi. Io me ne vado, faccio il figo. Non ho capito a cosa servono le manie, eh, ragazzi. Sì, sì, per favore. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Telefono. Oh, ma vaffanculo. Con un calcio. Sì. Eh la madà Teniamoci pronti a ammazzarlo Eh sangue Cazzo Eh molto molto male Eh loro proprio si conoscono già Si sono già picchiati come le best Oddio Porca puttana non me l'aspettavo Cazzo Cazzo che interattività Di qua di qua Prendilo Porca puttana C'è No contro il lavandino dovevo buttarlo Cazzo Dov'è il puntatore Capitana Uh i puni in gola Che cazzo di male Fa un culo Oh no Oh 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 Non muore mai Eh no eh E così no Cazzo Eh oh Caputtana E' difficile ragazzi Comunque sono AVSD I tasti da schiacciare Quindi adesso Mi 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 Ha tirato una laggiada Giuro L'ho schiacciato Non ho schiacciato V S O D Ho schiacciato A Giuro Adesso lo schiaccio All'infinito No no Vabbè dai ecco lì oh no ma dovevi staccare una terra oh ma non muore mai sto tizio dove è successo? oh è difficile comunque combattere così è vero 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 l'ultimo l'olta eh vaffa si ma è immortale ma davvero oh oh cosa sta succedendo oh il giallo il giallo madonna ma non è possibile hai morto cosa ma che cosa ma parlavo di me che mi ha riempito la pancia di sassi cioè io sono lupo di cappuccetto rossa alla fine ah è morto cosa no non è vero ah ecco eh nilo prima che cazzo che è bastava dirlo eh non lo sapevo eh madonna non lo sapevo no no these lips are sweet sorry eh infatti eh si io gli dico quello che devo no 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 tutto tuo c'è tutto un mistero dietro che non mi piace mica sai no no te sei una puttanella eh si vabbè questo è vero ah boh è andato via no ma no che cazzo oh ok i'll be fine Sì, ho 20, 58, è tutto, è tutto, va a aiutare, va a aiutare. È tutto bene, io sarò bene, tu hai fatto meno, davvero. Poi prendi i soldi, ok? Dove se le metti i soldi? Vabbè dai, abbiamo fatto un gesto di carità per una puttana, vabbè. Bello, questo gioco mi piace, mi piace un casino. businessta. We live in the smallest appartement in the Woodland, everyone knows that. Good to know... You should get cleaned up, he looked like shit. And, I don't use that term lightly. Some of these are pretty bad. I'm gonna clean up okay. I'll believe it when we see it. Ah ok ok Bene 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 Un taxi che sfreccia Dove essere il taglialegno Pensavo fosse un succo di frutta Una figata Molto interattivo Adesso devo un attimo abituarmi ai taschi Perché Non è così facile come sembra Devo tenere sempre Le dita su questi Taschi Memorizzarli Tutti alla novia Bene bene Bello The Wolf Among Us Ma l'avevano già scritto prima Sì Favolandia Non è così una brutta città C'è dichiarata Ah sì è vero che è New York Come diceva Che è la New York Episodio 1 Fe Fe Ok Appartamento di lusso I boschi Rodagna Beh ragazzi direi che questa puntata può terminare qui Spero di Eservi Eservi stato utile Sì stavo dicendo Sì sì sti cazzi No spero Che il video vi sia piaciuto Aspettate che l'avevo letto nei comandi Guarda come corre C'era scritto Scatta Perché questo è uno scatto chiaramente per lui Eh certo Vabbè È molto figo questo gioco Mi piace tantissimo E soprattutto È molto interattivo E quindi ecco perché è difficile Cazzo Vabbè Ehm Ci vediamo al prossimo episodio Spero Sia piaciuto E Spero vi faceranno i prossimi E Buona a tutti E al prossimo video Io Oh no Ah ecco anche lui Gira Perfetto Vi saluto con il mio diretto Bellissimo E Buona a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.